Ciao a tutti, sono Francesco, questa è appunto la trasmissione Maginia Stregonica Paganesimo ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16 e 30 e dalle 19 alle 20. Allora, partiamo appunto con l'attualità, con la cronaca di qualcosa che è successo di recente e io voglio appunto partire nel ricordare un evento significativo, bello, ben riuscito, realizzato che è stata appunto la festa dei Veneti del 4 di settembre svolta a Cittadella. Io voglio ringraziare gli organizzatori, parlo appunto qua degli amici di Reise Venete voglio ringraziare particolarmente Davide e Patrick per l'impegno, per l'abilità, per la bravura per tutto quello che hanno fatto perché questa festa fosse così ben realizzata e avesse una riuscita così consistente. La festa dei Veneti è stata una festa che ha avuto una partecipazione incredibile perché i giornali hanno parlato di 15.000 persone, gli organizzatori di 20.000 comunque sono sempre numeri significativi perché implica che migliaia e migliaia di persone sono state presenti a questa festa nonostante che i mass media, a parte Radio Gamma 5 che è un mass media anomalo, nessun mass media appunto si era impegnato a parlare di questa festa, a parte qualche raro articolo sulla cronaca locale, qualche articolo piccolino, breve, non mai messo in posizioni dominanti. Però nonostante tutto questo, gli organizzatori di Reise Venete sono stati proprio bravi in questo non sono riusciti a portare più persone dello scorso anno. Già lo scorso anno avevo partecipato alla manifestazione assieme agli altri pagani e appunto le stime davano 10.000 persone che avevano partecipato alla festa, erano state presenti durante l'arco della giornata. La cifra di 20.000 per me poteva essere superata se purtroppo la sera non ci fosse stato l'inconveniente della pioggia che ha impedito lo svolgimento dei concerti. Ma tolto questo inconveniente meteorologico che ha impedito proprio lo svolgimento della parte diciamo più spettacolare per quanto riguarda appunto il richiamo verso forme di cultura, di espressione come il cabaret, come appunto la musica. Durante la giornata dalle 10 che si è aperta la festa fino alle 18, 18.30 quando ho cominciato a piovere, la partecipazione è stata enorme. È stata una festa veramente ben organizzata, ricordo che i telefoni sono già aperti, sono per chi vuole intervenire, se anche se qualche ascoltatore vuole appunto parlare, riferire della festa dei venti di Cittadella, se gli è partecipato, dare una sua impressione, ricordo che gli è sembrato, i numeri sono aperti, sono 049 700 700 e 049 708 38. Bene, come dicevo, è stata una festa importante e come sempre, come tutte le cose importanti, significative, che hanno un pregio, che hanno un valore, che hanno un significato, che riconoscono un'identità, sono state silenziate completamente dai grandi mezzi di stampa. Nonostante fossero presenti dei giornalisti e diversi giornalisti, perché anche con alcuni ci ho parlato io, per altri motivi, per altre cose, per cose attenenti anche alla festa, soltanto una giornalista che io sappia ha scritto un articolo sulla festa dei venti, ha scritto un articolo appunto facendo una cronica di tutte quante le varie realtà che erano presenti. Eppure, nonostante questo, nonostante il successo di partecipazione, nonostante il fatto che fosse un evento importante, si è preferito da parte dei soliti mezzi di comunicazione di massa di omettere qualsiasi informazione. C'è da chiedersi il perché questo è avvenuto, perché come si fa in un mondo di informazione di fronte a un fenomeno così in cui migliaia, decine di migliaia di persone partecipano a una festa che non è politica, che non è organizzata da un partito, che non ha un fine commerciale, che non ha un fine politico, è una festa che parlava di identità, che parlava di cultura del Veneto, che era una festa rivolta ai Veneti, una festa che fin dalle sue dichiarazioni di intento diceva chiaramente noi siamo una festa culturale, vogliamo risvegliare l'identità dei Veneti e noi pagani politisti abbiamo partecipato e anche gli amici della Vica hanno partecipato proprio a questa festa per ricordare che esiste un'identità veneta che è anche un'identità religiosa. Bene, questa festa appunto non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato proprio perché diceva questo, alle persone non aveva da proporre un modello comportamentale, politico, sociologico, non aveva da chiedere alla gente un voto, ma aveva soltanto da chiedere la gente è una cosa molto semplice. Siate fieri e cercate di riconoscere la vostra identità, la vostra cultura. Questo è un messaggio che è enormemente fastidioso per chi detiene il potere, proprio perché è un messaggio in cui si rivolge al singolo e il singolo dice le tue radici, la tua origine, la tua storia, il tuo ambiente e lo puoi proteggere solo se tu sei conscio di questo. Si tratta appunto di recuperare l'identità, significa dire alle persone non fatevi massificare. Logicamente gli amici di Raisa Veneto, la festa dei Veneti dicono in ambito culturale, in ambito linguistico. Noi diciamo, come pagani, i Veneti non fatevi massificare anche dal punto di vista religioso e lo diciamo a tutte le popolazioni del mondo, però visto che noi viviamo nel Veneto è giusto che noi ricordiamo le nostre radici, il nostro legame con il suolo, con la terra. È giusto appunto ricordare appunto che esiste, come dicono i pagani, un genere del luogo e questo genere del luogo va rispettato, questo genere del luogo va onorato, questo genere del luogo va venerato e con questo genere del luogo si deve convivere e saper vivere. Di conseguenza noi come pagani, fedeli appunto, come direbbe Inizio allo spirito della terra, abbiamo ricordato questo, che ogni individuo deve essere cosciente, deve avere la capacità, deve avere la percezione di cosa è la sua storia, di cosa è il suo territorio, di cosa è la sua vita. E di conseguenza anche noi ricordavamo che gli antichi veneti avevano delle divinità importanti, avevano un patrimonio religioso enorme e che veramente poco ci è giunto, ma quel poco che ci è arrivato, di quei pochi tracci che abbiamo, da quel punto si può partire e tutta la visione del pantheon degli antichi veneti è ben superiore alle follie che ci vengono dei bassi fondi della Galilea. E allora come noi pagani vogliamo ricordare questo, certo che noi non andiamo a dire che la Dea Reitia deve essere venerata in una certa maniera o che deve essere che tutti i veneti devono essere la Dea Reitia, noi ricordiamo proprio come simbolo, come connessione, come giuntura, come collegamento con il nostro passato che questa è una Dea importante e noi l'abbiamo anche ribadito molte volte durante la festa parlando con tutte le centinaia e centinaia di persone che sono venute a trovarci nei nostri stand a vedere i nostri libri, i nostri volantini a firmare la nostra petizione. Reitia aveva una caratteristica fondamentale, era la divinità che insegnava a scrivere, non insegnava, non diceva voi dovete credere in questo, non aveva comandamenti, testi sacri, libri da proporre, ma il suo scopo era quello di permettere alle persone di conoscere una tecnica e di questa tecnica dovevano essere padroni, dovevano essere capaci di utilizzarla, di indirizzarla, di portarla avanti e Reitia proprio aveva questa caratteristica di insegnare alle persone, dare alle persone gli strumenti e logicamente Reitia non valutava i contenuti di cosa una persona scriveva o di come usava quello strumento, ma Reitia come tutte quante le divinità che appartengono a un panteon politeista pagano o precristiano aveva sempre il desiderio, la necessità, l'amore, l'attaccamento per quelle persone che erano capaci di utilizzare i regali che lei offriva. Ricordavamo anche che Reitia era una divinità, e lo ricordiamo perché è importante, una divinità di confine. Normalmente i santuari della Dea Reitia venivano costruiti appunto lungo gli argini, ma gli argini sono un'opera dell'uomo. Lungo questi argini significa anche che c'è la capacità di controllare il territorio, non di distruggerlo, non di cancellarlo, non di manipolarlo, ma che c'è la possibilità appunto di saper convivere in un luogo di confine in cui lo spazio della città convive con lo spazio che è selvaggio. E Dea Reitia protegge questi confini, protegge l'imes, protegge proprio questi spazi. La divinità della separazione, della divisione, nel senso che bisogna saper distinguere tra quello che è selvaggio e quello che è civile. Ma Reitia è anche la divinità che rappresenta il passaggio dei ragazzi, dei fanciulli, dall'età appunto in cui sono dei ragazzi all'età in cui diventano cittadini, diventano membri di una comunità, di una coine, come la vogliamo definire, di un pagus, di un villaggio, di un agora. E lei appunto vigila su questo, lei appunto è anche quella che guada, che porta le persone a superare degli ostacoli e le porta oltre. Il fatto che appunto Reitia sia una divinità che implica la capacità di guadare, di superare, di andare oltre, è stata scelta da noi proprio come emblema per la festa dei Veneti, come pagani che siamo sfilati per ricordare questo. Che la divinità ci è sempre favorevole, ma questa divinità non fa miracoli. La divinità agisce sempre assieme all'uomo, si mescola con l'uomo, interagisce con l'uomo. E se l'uomo non è capace di farsi carico, di prendere contatto, di vedere queste cose, il contributo che la divinità può dare non può certo essere un contributo miracoloso, ma viene perso e viene lasciato andare. Di conseguenza Reitia è stata proprio indicata a tutti i Veneti come un modello comportamentale, come un modello esistenziale. E noi a questo punto speriamo che questa nostra partecipazione nella festa dei Veneti abbia dato anche questa possibilità a qualcuno di andare a cercare le proprie radici. Perché noi non siamo i detentori di una verità, noi non siamo i proprietari, non siamo neanche i custodi, non siamo niente rispetto al nostro passato. Il nostro passato, la nostra antichità, il nostro retaggio, il nostro archetipo è legato alla capacità di ogni persona, di ogni membro di una comunità di ricollegarsi a questo grande serbatoio, a questa grande possibilità. Noi non possiamo imporre alle persone di riscoprire la loro identità. Noi possiamo ricordare, possiamo manifestare, possiamo esporre, possiamo far conoscere, possiamo ricordare questo, ma non possiamo imporre. Perciò se le persone non sono coscienti, non prendono coscienza del loro passato, perché questo è importante che le persone siano loro a cercare cos'è la loro storia, qual è la loro cultura, qual è il loro territorio, quali sono i miti che sono legati a questo terreno, a questo ambiente, al paese, alla città, alla regione, allo stato in cui vivono. E noi appunto lo facciamo ricordando proprio quello che ha sempre contraddistinto i Veneti, con la Dea Reitia nell'antichità, la capacità di essere attenti e di sapere che ci sono delle cose che devono essere affrontate e superate. Noi vogliamo sperare che Reitia ci sia favorevole anche adesso. Noi sappiamo come pagani che Reitia ci sia favorevole. Certo che se le persone trascurano questo, non se ne prendono cura, abbandonano le cose, Reitia non può certo cambiare la loro personalità. D'altronde è importante che l'individuo cambi perché prende coscienza. La festa dei Veneti appunto ha rappresentato anche questo. D'altronde Claudio e la Federazione Pagana hanno realizzato una mostra che si chiamava i Veneti antichi nell'attualità, proprio perché era una raccolta della rassegna stampa di come veniva raccontato, come veniva parlato, come veniva scritto delle varie iniziative che ricordavano gli antichi Veneti. Io ho visto che questa mostra è stata visitata da moltissime persone che sono state veramente incuriosite che esistesse questo legame, questo attaccamento al nostro territorio. E per molte persone ha rappresentato quasi una nuova scoperta. Speriamo che questa scoperta gli sia favorevole per il loro futuro, per la loro crescita, per la loro conoscenza. Dall'altra parte noi abbiamo anche portato una petizione, una petizione appunto che era importante e che richiedeva la petizione al sindaco di Padova e ad altre autorità, soprattutto per quanto riguardava la Basilica di Sant'Antonio. Chi ascolta questa radio sa benissimo che Sant'Antonio è stato un personaggio non certo tranquillo, ce lo descrivono come un santo, ma i santi dei cristiani sono in realtà persone che sono sempre violente, sono sempre capaci di sterminare le persone, i popoli, le comunità. D'altronde lui è stato per molti anni a dare la cazza, gli albigisi e i catari. Giustamente gli hanno attribuito la definizione di martello degli aretici, proprio perché quel martello si ferisce, si colpisce, si danneggia un qualcosa e proprio l'anima di danneggiare la vita è sempre parte integrante di ogni visione monoteistica. Che la visione monoteistica appartenga al passato, sia presente o sia futuro, è sempre quella. Gli altri vanno colpiti, vanno danneggiateli di essere reso impossibile di affrontare la loro vita. E d'altronde il santo Antonio da Padova ha contribuito nella crociata contro gli albigisi e i catari, ha partecipato proprio alla cancellazione di questa intera popolazione, di questa cultura, di questa eresia cristiana. Ma d'altronde perché si deve perseguire qualcuno perché pensa in una certa maniera? Perché si deve andare a discriminare il pensiero delle persone? Questo appartiene ad ogni monoteismo. Ora appunto noi abbiamo portato questa petizione in cui dicevamo che certo, Sant'Antonio non è certo un personaggio che può ben raffigurare, che può ben rappresentare Padova, ma dicevamo anche che sotto il santuario appunto la Basilica del Santo, così definita, c'era un antico tempo di Reitia. E noi chiediamo e chiederemo, insisteremo, stiamo raccogliendo le firme sia fisicamente con i moduli come abbiamo fatto a Cittadella, sia virtualmente su internet, andando a cercare trovati i vari link, sia su internet, proprio questa raccolta di firme affinché sul santuario del Sant'Antonio di Padova venga scritto ad ogni ingresso che sotto esisteva il culto e il tempio della Dea Reitia. La nostra richiesta non è una richiesta che può sembrare provocatoria perché proprio mentre raccoglievamo le firme a Cittadella durante la festa dei Veneti sono venute persone anche di altre regioni ed è venuto un visitatore, un conoscente che ci conosceva su internet che ha firmato la petizione e ha detto guardate che a Bologna la chiesa di Santo Stefano c'è una lapide che ricorda che prima c'era il culto di Mitra. Benissimo, se questa cosa è stata fatta a Bologna non vedo perché non si possa fare anche a Padova. D'altronde noi vorremmo che fosse scritto tutte le atrocità, le criminalità che un misero figuro come Sant'Antonio ha commesso, ma noi non siamo provocatori in questo caso, vogliamo soltanto ricordare che esiste un pensato che è superiore ai 2000 anni della presenza monoteistica e vogliamo ricordare appunto che c'è qualcosa sotto quello che noi vediamo e vogliamo ricordare semplicemente un dato archeologico storico che sotto appunto la Basilica del Santo a Padova c'era un tempo alla Dea Reitia. Poi chi avrà la curiosità e il desiderio, chi sentirà il bisogno di riconoscere le proprie radizie andrà a scoprire, a ricercare quello che Reitia rappresentava, quello che Reitia diceva. Perciò io invito gli ascoltatori che ne hanno possibilità, che ne hanno occasioni di andare a firmare almeno la petizione virtuale su internet. La petizione appunto virtuale è già un passo significativo perché dimostra l'attenzione per questo. Le decine e decine di persone che hanno fermato questa petizione durante la festa dei venti a Cittadella, domenica scorsa, nessuna ha trovato anomala questa richiesta, perché è una richiesta minima, cioè dobbiamo ricordare le nostre radici, dobbiamo ricordare qual è il nostro passato, dobbiamo ricordare quello che ci appartiene. È la giusta memoria di quello che ci viene da lontano, perché se il Veneto è questo non è certo perché è arrivato a qualcuno a portare il monoteismo. Il Veneto è questo perché da migliaia di anni i Veneti hanno avuto una visione del mondo che è sempre stata in contatto con il monoteismo. Se poi negli ultimi secoli hanno avuto la sfortuna di essere appesantiti, zavorrati dal monoteismo, è una sfortuna in più che ci è capitata, che si è presentata. Però tutto quello che gli antichi veneti, i veneti e i veneti hanno fatto, l'hanno sempre fatto lottando, dimenandosi, cercando di liberarsi dal monoteismo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna, come Veneti rispetto da altre parti d'Italia, di aver avuto una Repubblica di Venezia che ha conservato una libertà di stampa. Abbiamo avuto la fortuna che le idee potessero circolare. Certo che molte volte c'è da chiedersi come mai i veneti attuali non hanno quel desiderio di cultura, e io cultura non intendo in senso libresco, non intendo in senso appunto di leggere tanti libri, ma di coltivare quella che è la loro natura, il loro passato, il loro presente o quello che hanno ereditato. Questo sicuramente deriva dal fatto che la visione monoteistica è entrata nel profondo delle persone e questo le ha cancellate ogni legame. D'altronde quando si cancellano le radici delle persone si creano della gente che è spostata, disadattata, degli alienati, della gente che soffre, della gente che non avendo più queste radici distrugge il suo territorio. Noi difatti faremo molte cose che stiamo pensando ad esempio proprio per dare anche un significato perché noi speriamo che l'edizione dell'anno prossimo della festa dei veneti sia appunto più ampia e abbia maggiore successo. Già ha avuto un successo enorme nella prima edizione del 2004, ha avuto un successo enorme nella edizione appunto di quest'anno del 4 settembre a Cittadella. Noi stiamo pensando appunto l'anno prossimo di affrontare il tema delle anguane. Il tema delle anguane è una tematica, è un mondo particolare che ci permette di ricordare la cura che noi dovremmo avere per il nostro territorio, per il nostro ambiente. Ma le anguane sono anche un contenuto psicologico che ci collega al nostro passato e al nostro presente e le anguane appunto noi le dovremmo utilizzare proprio come la capacità delle persone, dei popoli, delle comunità di essere collegati alla loro storia e al loro territorio. E probabilmente il prossimo anno, alla terza edizione della festa dei veneti, i pagani veneti porteranno l'accento sempre sul ricorso delle anguane proprio per ricordare che deve esistere un amore, un culto, una venerazione per il proprio territorio e soprattutto questo territorio è basilare per il nostro sviluppo, che non possiamo pretendere di distruggerlo, di sconvolgerlo, di farlo a pezzi, di costruire troppi campannoni, troppe strade, di non fare troppe cave, proprio perché queste ferite non sono solo ferite che noi facciamo al territorio ma in realtà sono ferite più profonde che arrivano nel nostro animo. E ovvio in questo senso noi abbiamo programmato per la prossima edizione appunto di affrontare il tema delle anguane. È un tema importante, che è significativo, che ha un valore enorme proprio perché dobbiamo saperlo leggere, capire, manifestare in tutte le sue varianti. In realtà noi in Veneti abbiamo verso le anguane sempre un significato secondario di come di un qualcosa che non ha senso. In realtà se le persone sono capaci di comprendere quello che le anguane, le ninfe ci dicono, comprenderanno qual è l'importanza dell'attaccamento al nostro territorio. Bene, allora per la prossima edizione sapete che noi parleremo di anguane, affronteremo questa tematica, a meno che come sempre non arrivi un qualcosa di particolare che attragga la curiosità o ci sia necessità di affrontare tematiche diverse. Però, come vedete, il fatto stesso che esiste una festa come la festa dei Veneti, organizzata così, da Reise Venete, dà la possibilità a migliaia di persone di acquisire informazioni, di avere conoscenze, di avere spunti e noi vogliamo sperare che tutti quanti gli spunti, non soltanto i nostri perché alla festa dei Veneti sono intervenute moltissime realtà. Tutte queste realtà io ho girato appunto nei loro stand, ho parlato con le persone e ho visto persone attentissime al territorio. Io ho visto ad esempio lo stand dei vari gruppi e ogni gruppo era una caratteristica particolare, era un aspetto. E il fatto che la festa dei Veneti organizzata da Reise Venete sia riuscita a concentrare questa festa di cultura, perché lo voglio ricordare, molte volte quando qualcuno, qualche Veneto, sente parlare della festa dei Veneti, immagina iniziative politiche, parapolitiche legate a chi sa quale realtà. Benissimo, è giusto ricordarlo, la festa dei Veneti è soltanto una festa che Reise Venete organizza ed è una festa di cultura. Tutti quelli che vanno lì vanno proprio con questa intenzione di dare un contributo di coltivare un qualcosa. Per me, che ho girato moltissime iniziative, la festa dei Veneti con tutta la varietà, proprio con l'abbondanza, proprio con le moltitudini di voci presenti di realtà, è proprio da questo stimolo. Cioè chi l'ha visitata ha trovato la possibilità di scoprire realtà diverse, spunti diversi, ha una cultura che la cultura ufficiale ignora. Difatti è rappresente proprio la realtà più ampia del Veneto. E' benissimo, questa realtà del Veneto non è stata rappresentata dai mass media. Perciò bisogna che anche ogni singolo partecipante a questa festa, per la prossima occasione, per le prossime iniziative, si faccia promotore di informazione. A me è piaciuto il caso, ad esempio, mentre distribuivo dei volantini della petizione appunto che parlavamo prima di Reitia, e tra l'altro era un pretesto anche per parlare con le persone, per scambiarci delle idee, per conoscersi, per dibattere delle tematiche, ma poi il fatto di come la voce girasse non tramite i mezzi canonici o i mezzi abituali di massa, ma tramite da voce a voce. Ricordo appunto che dando il volantino a una persona, era un gruppo di signore, la signora diceva, ma chi sono? Ah, sono i pagani. Sì, la mia vicina mi ha detto che ci sono anche loro. Come vedete, la capacità di ogni individuo, di ogni persona di farsi promotore, di portare avanti le informazioni, di farle circolare, è essenziale. Perciò io lancio un invito a tutti quelli che hanno avuto la fortuna, io la considero una fortuna, di visitare, di stare, di essere presenti alla festa dei venti, del 4 settembre a Cittadella, di farsi i loro promotori, di dire cosa c'era, cosa rappresentava, qual era il significato di cosa hanno visto, proprio perché con questo piccolo passare di voce è uno dei pochi sistemi di informazione autentica che noi abbiamo a disposizione. Perché dobbiamo capire, e penso che molti ascoltatori concorderanno, che un evento così grande, con migliaia di persone che sono presenti, con tematiche così, sulla stampa, sui mass media, non è esistito. E allora, come vedete, esiste anche una volontà di omologare le cose, di cancellare le cose, di cancellare le differenze. E se noi, che siamo questa differenza, che noi viviamo queste differenze, che noi le viviamo, le partecipiamo, ne siamo presenti, che siamo la manifestazione di questa differenza, se noi non siamo consci, se noi non ribadiamo qual è la nostra origine, anche noi verremo omologati, verremo cancellati. Tra l'altro, la volontà di omologazione, di cancellazione delle differenze, per noi pagani, appartiene alla visione religiosa del monoteismo. Il monoteismo ha sempre il concetto di avere una verità esterna alle persone. Noi diciamo sempre che non esistono verità, ma che esistono visioni, che esistono sensibilità, che esistono momenti e capacità individuali, individuali dei popoli, delle comunità, dei luoghi. E queste sono diverse dagli altri. E questa differenza, per noi, è un grande patrimonio, è un grande privilegio, è una grande fortuna. Di conseguenza, dobbiamo anche essere consci di questa. Queste cose si conservano, si tramandano, tornano a essere vitali e sono vitali soltanto se chi le conosce se ne fa propagatore e se ne fa testimone e le porta avanti. Perciò, di nuovo un grazie a Raize Venete e di nuovo un invito. Siamo più presenti alla prossima edizione della festa dei Veneti, proprio perché rappresenta un grande evento molto importante. Bene, proseguiamo, continuiamo la trasmissione. Allora, io voglio ricordare appunto che tra poco la Federazione Pagani, i Pagani Veneti, i Pagani in generale, i Vikings, organizzano l'equinozio d'autunno. Quest'anno appunto l'equinozio d'autunno si terrà al Bosco Sacco di Jesu, lo sabato 24. Appunto, è un rituale religioso, è aperto a tutti, logicamente sempre esiste la preclusione, esiste la condizione o la precondizione in cui chi partecipa sia conscio che questo è un rituale religioso. E se qualcuno vuole essere presente e non se la sente di partecipare al rito, può benissimo farlo. L'importante è che non sia di alterazione all'equilibrio del rito stesso. Il rituale dell'equinozio d'autunno è uno dei rituali più importanti del calendario. Noi della Federazione Pagana abbiamo scelto quattro dati importanti, quattro eventi astronomici che sono appunto la manifestazione di questo calendario Sacco, che sono appunto l'equinozio d'autunno di primavera e il solstizio d'estate e d'inverno. L'equinozio d'autunno appunto rappresenta uno di questi passaggi importanti di questo calendario sacro. Allora, sabato 24 settembre, al Bosco Sacco di Jesu, poi chi va su internet può trovare le coordinate, i numeri telefonici, le mail con cui entrare in contatto, con cui comunicare e con cui chiedere. L'equinozio d'autunno è appunto l'avvio del periodo dell'oscurità, è il momento in cui raggiunta la massima luce, quel solstizio d'estate, la luce comincia in quel giorno ad essere alla pari, di essere, tendere appunto a diventare il giorno e la notte uguali e poi tenderà a calare e si andrà verso il solstizio d'inverno. Perciò è un momento in cui avendo ancora la piena luce e si sente avvicinarsi dell'oscurità c'è la possibilità di raccogliersi, di meditare, di riflettere, di ricordare, di sapere appunto quello che è stata la stazione, la stagione della luce, è stata appunto la stagione in cui noi abbiamo potuto raccogliere, seminare, coltivare, in cui l'ambiente ci ha dato la massima possibilità di illuminazione, di conscienza e di conseguenza questo che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo raccolto, quello che noi abbiamo percepito, tutto questo lo mettiamo nel nostro granaio e ci sarà compagno, ci sarà appunto d'aiuto, ci sarà appunto insieme a noi affinché nel periodo verso l'oscurità, fino alla massima oscurità, fino alla porta degli dèi, che è chiamata così anche il sorriso d'inverno, ci sia appunto questa possibilità di meditare, di coltivare, di ricordare, di utilizzare quello che noi abbiamo seminato, quello che abbiamo raccolto. Perciò è un periodo di passaggio come lo sono tutti gli equinoce e i sorstizi. Lusicamente ogni equinoce e ogni sorstizio hanno delle valenze, hanno dei significati, hanno delle profondità diverse. Però questo appunto è uno dei più importanti proprio perché si rende conto che si affronta all'oscurità, non si avrà più la luce esterna, ma si avrà la luce che si è raccolta nel periodo appunto della luce, si avrà la memoria, il ricordo di questo. E con questo si deve utilizzare, si deve essere utilizzato proprio per il periodo verso l'oscurità. Logicamente faremo il solito fuoco, faremo la classica divisione del fuoco in due, quel rituale della purificazione, questo rituale della purificazione o della comunione, del contatto con il fuoco c'è sempre proprio, l'abbiamo scelto come caratteristica, proprio perché è bello dal punto di vista spettacolare, ma permette anche di avere un contatto con il fuoco. Proprio perché nella nostra società, nella nostra cultura il fuoco è imprigionato, è messo in marginale, è messo separato e allora c'è bisogno di recuperare questo aspetto fisico della percezione anche del calore. D'altronde quale equinozio d'autunno il calore comincia a scendere, comincia a essere meno presente, meno forte, meno intenso e in conseguenza è quasi un rivederci al sole, all'energia che ci ha accompagnato, sapendo che questa energia la porteremo nei nostri cuori, nei nostri animi, sapendo che vivrà un periodo di oscurità, però con il solito d'inverno avremo la possibilità di averla di nuovo assieme a noi, di avere appunto la possibilità di avere questo nuovo contatto, di riaverla e di farla crescere. Sarà compito nostro appunto coltivarla nei nostri cuori, nei nostri animi affinché appunto il rito del solito d'inverno sia proficuo e possa portare nuova luce e di conseguenza nel periodo dell'oscurità noi siamo proprio responsabili di questo, siamo coscienti di questo e ora affinché l'equilibrio della natura ci lo permette e noi ci troviamo nel giorno dell'equinozio d'autunno a ricordarci di questo, a compiere un rito che ci ricordi di questo ed ad entrare in contatto con questo sospetto di energia fondamentale e importante appunto che è l'energia del sole. Bene, allora adesso una piccola pausa e poi proseguiamo con altre tematiche relative alla trasmissione magia streonaria paganesimo. Allora, sempre radiogramma 5, sempre la trasmissione magia streonaria paganesimo e poi proseguiamo con tematiche appunto che hanno attinenza.